Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. La mobilità e il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILIP per traffico, coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Troviamo inoltre rallentamenti per lavori di miglioramento della sicurezza tra Montelupo e la Strassigna nelle due direzioni. Ricordiamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Negli stessi lavori, l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno è chiusa al traffico. A Firenze, per caduta di un muro di recinzione di proprietà privata, troviamo via Fortini chiusa tra via Belisario Vinta e il numero civico 37. L'accesso è consentito a frontisti e scooter. Unteriore dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Grazie a tutti.